buongiorno signori guardate la mia cumpare che scumpare guardate adesso è scumparsa comparsa sto preparando il letto signori quindi vi diciamo buongiorno guardatevi mini cosa devo dormire io in quanto non sono a casa mia come ben si può notare cambia il colore dei muri quelli c'è harry potter c'è la palla che vola lì mi ricordo come si chiama quella roba lì quella roba lì no 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 da che sei stricata oh mio dio signori allora facciamo una piccola intro del video perché sembra già stupido e demente deficiente ovviamente ci sono io dentro poi c'è anche lei lo scarafone qua allora amore come ben abbiamo promesso nel video precedente qualcuno poi ha perso quindi quando la videocamera quindi oggi stamattina stanotte di pomeriggio cosa devi fare ho detto quindi signori per la piccola cavia qua un bel applauso brava 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 pop corn cazzo per volte va bene lo stesso niente allora come ripetiamo perché lei non ha le parole stamattina dorme brava si deve lavarmi i denti con il sapone e il dentifricio no niente ho solo sapone solo sapone ma tu stai scherzando almeno dal dentifricio così nei commenti qualcuno ha poggiato la mia idea perché hanno tutti hanno guardato tutto il video io avevo letto sapone bicarbonato se non sbaglio beh mi pare che c'era anche quello ma facciamo solo sapone che è meglio beh va bene che poi dopo può fare una reazione ti esploda la bocca un pochino i portolini tiam 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 inizi a andare a lavarti i denti il letto vai in parto bravo guarda 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 ecco chiuso prego ma devo farlo più corto si cartoline cartoline! Salve bagno! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ce la fai? Salve! Guardate, tac, tac, spazzolino! Sì, non metterlo dentro! Perché stai usando il mio? Quello è il mio spazzolino! Vabbè, fa niente, è uguale! No, mi ha attacchiato i tuoi germi! Ma che germi? Germi, germi! Germi miei! Guarda che ti lavo te i reggi con il sapore! Sì, dai! Guarda! La videocamera che si spaventa non ti metta fuoco! Allora! Cosa vuoi? Il sapone all'olive? No, è un sapone normale! L'olive era già finito! Non si è visto! Fai, fai, fai! E non coprire con la mano, tac! Va bene così! Sì! Vediamo le pulle! E' buono? Come te li lavi? No, devi lavarli bene, come ogni mattina! Ma che dentifricio usi che fa le bolle? Lo voglio anch'io! No, che fai le bolle! Capra! Fai i gargarismi, fai le bolle! Il sapone! E' buono? Vuoi vedere i dentini ora? Sì! Sono più bianchi! Vuoi messare i dentifricio? No! No! Signori, un bel applauso, mi raccomando! Fatelo dietro allo schermo all'applauso! Per la cavia da laboratorio! Cosa si prova? Senti le bollicine per i denti? Questo sapore è acqua! Ho visto un vulcano! C'è qui un vulcano! Lascia stare! Ti lavo la faccia! Salve! Guarda che c'è un po' di... Tintin, friccio! Salve! Sentite le campane! Buona! Vieni qua che ti lavo la faccia! No, grazie! Asciugati! Penitenza l'hai pagata! Potresti sempre vindicarti quando dormi, ma tu dormi più di me troppo! Lo fare, lo farò prima o poi! Sì, lo fare! Sono vent'anni che dici così! Che vent'anni e vent'anni! Non mi filmare così! Ma perché non ti fai così tu? Dai, 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 dai! Cosa? Guarda che giro! Ecco, guarda come sono... Guarda il naso! Narice, uno, narice, due, due! Ci sono i capperi? No! Dai, oh! Signori, un bel applauso alla piccola cavia! Finalmente siamo, diciamo, ritornati! Aspetta che sto salutando! Finalmente siamo ritornati dopo una lunga... Pausa! Pausa! Sì, purtroppo ci saranno altre per varie problematiche, ma cerchiamo comunque sempre di essere disponibili, rispondere ai messaggi e diciamo ci facciamo vivi senza fare i video. Comunque la presenza c'è sempre, siamo sempre attivi, ecco! In poche parole, succo! È quello! Sì, anche cercare di realizzare un video, nonostante tutto comunque abbiamo così... Abbiamo poco tempo! Abbiamo sempre poco tempo! E cercheremo comunque di portare a fatica qualcosa, anche magari un video corto, corto, giusto per farvi sapere che va tutto bene! Detto ciò, guarda la bella lavanderina, vi salutiamo, mandiamo un grosso saluto e abbraccio da... Imbarazzante! 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 E io è normale con i capelli scombinati! Normale! È un tanto normale, però fa niente! Sono normalissimo, io non mi lavo i denti con lo sapone! Detto ciò, signori, un grosso saluto e abbraccio a tutti voi da Fefe... E Cocó! E Cocó! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ah, che schifo! Sono i giorni miei! Arrivederci, signori! Salve! Salve!